Molti anni or sono, visse un uomo che fu capace di conquistare ricchezza, fama, potere e tutto ciò che si può desiderare in questo mondo. Il suo nome era Gold Roger, il re dei pirati. I miei tesori, se li volete, sono vostri. Cercateli. Ho lasciato tutto con Gabri! Nello scorso episodio è successo questo! Esplosioni, boom! Ah, uno sopra l'altro. Esplosioni, boom! Sampai! In questo episodio sta succedendo questo! Chi va là? Chi va là? Chi c'è qua dietro? Uno solo, ok, un buon inizio. Ed è... What the f... Bellamy? Perché Bellamy? Ok. Strana scelta? Oh! Oh! Bellamy e Doflamingo, seduti dentro un seme, e poi si amano e poi uno dice l'altro di pugnalarlo e poi non lo fa davvero. Ok. Cos'era un... Non avevi gli occhiali rosa una volta? Perché ce li ha blu? Ok, Doflamingo. Cos'è questo tipo? Un tizio... Un tizio... Molto... Fabulous. Attento, sta per fare qualcosa! Chi se ne frega, se provo a fermarci gliele suonerò. Hai del carattere, te lo concedo, rubber cappello di paglia. Tuttavia, mentre voi sciocchi vagate tra queste isole, la nuova era si avvicina sempre di più. Eh? Che cosa si avvicina? Sta per avere inizio a un mondo in cui solo i veri pirati sopravviveranno. Una corrente inarrestabile porterà la nuova era. Ok. Doflamingo. Eh... Oh! Di già? Quindi cosa... Oh! Dannazione, il mio corpo si muove da solo! Cosa mi ha fatto? No, 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 no! Così non va bene. Eh... Posso attaccare lui? Allora, Doflamingo è uno della flotta dei sette. Prima del salto temporale che c'è stato, non si sapeva molto su di lui, quindi non dirò neanche io molto su di lui. Mi sembra giusto. Anche il suo potere non si sapeva, anche se potete intuirlo. E non so su cosa abbiano basato il suo moveset. Wow, mi fa male! Ok. Fuck! Ok, cosa devo fare a Sanji? Devo farlo fuori? Ow! Ow, 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 ow! Ok. E' perché... Non vorrei che se gli faccio... Fuck! Proprio Sanji dovevi scegliere. He's a dick! Ok. Fammi controllare una cosa. Sanji perde vita. Ah, è solo fuori uso. Ma per quanto? Wow! Se... Se è un Esol! Non riesco neanche a colpirlo perché... Ok, ok. Se lascio queste trappole Sanji fa fatica ad arrivarmi addosso. Fuck! Ok. Fuck! Ow, ow, ow! Ok. Gli han dato delle pedate a quanto pare. Ok. Dovrebbe essere tipo il migliore aso per batterlo, ma non riesco a fargli niente. Ok, proviamo così. No. Fuck! Ok. Ho chiamato Soge King, ma non so se mi aiuterai in questa situazione. Beh, danni gliene ho fatti. Ma... God damn it! Proprio Sanji doveva chiamare, eh! Ah! Ora ne chiama un altro. Chi? E ora devo vedere se... Sanji... Chi ha chiamato? Chi ha chiamato? Rubber! Oh, buonanotte allora. Ora Sanji è morto. Ah, non posso cambiare perché sono Soge King. Fammi... Uscire dalla modalità Soge King. Ow, 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 ow. Un attimo. Ok. Posso uscire? No. Non funziona. Vabbè. Dovranno finirmi i punti. Ho la vita. Oh, God. Ok. Non morire, Asop. Non morire, Asop. Prendi una pozione. E... Usala. Ok. Devo controllare se... Mi ha ucciso Sanji. Fuck! Fuck! Ok. Oh, che fastidio. Questo è il peggior boss che abbiamo mai affrontato. Ok. Ok. Wow, ho già fatto fuori anche... Questo non mi piace affatto. Se io avevo cacciò... Stavo per dire che se io avevo cacciò... Beh, non usano le mosse speciali... Wow, guarda con la mossa. Ow. Sai, volendo. Potrei far fuori tutti i miei compagni. Ma ho paura di quello che potrebbe accadere dopo. Oh, no. Oh, no. Non riesco ad andare all'offensiva. Devo... Devo... Mi spiace, non posso usare Asop. Chi è che non ho ancora usato contro un boss? Nami? Nami e Zoro? Forse Zoro l'ho già usato. Vado con Zoro. Perché devo andargli vicino e... Asop non è l'ideale. Per fargli danni. Userò poi Asop per l'ultimo boss. Fuck, l'ho soppitato a fare un sacco di danni. Ow. Ok. Naturalmente adesso io evo caso per darmi fastidio. Nessuno è buono. Forse Robin non mi darebbe così fastidio. Ok. Perché non ha il suo moveset che può beccarmi da lontano. Ok, Doflamingo. Questo un po' male dovrebbe farti. Ah, naturalmente si sposta. Fuck. Oh, wow. Almeno ha poca vita. Tutto sommato. Beh, è sicuro il computer sa usare i personaggi meglio di me. Ho paura di quello che succede quando arrivo a metà vita. Ow. Sai, ho affrontato boss difficili. E quelli mi sta bene perché almeno mi sento come sono a chance. Questo è il più imbroglione che abbia mai affrontato. Si sposta di nuovo? Oh, ovviamente si sposta. Ho ucciso Robin. Quindi cosa mi resta? Niente. Mi resta Nami ma poi una volta morta Nami... Brook. Oh, c'è Brook. Oh, cosa fa? Bellamy e Brook. Oh, no, 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 no. Scherziamo? Oh, my God. Oh, l'ho preso stavolta. Alleluia. Vediamo se riesco ancora a beccarlo. Mentre sta facendo un attacco, sembra essere il momento migliore. Yeah. Motherfucker. Resta solo Nami adesso Perlomeno Ah no c'è Franky Che ha fatto in tempo a curarmi Prima di sta roba Wow Wow Ho dovuto spammare mi spiace Che roba meschina Vabbè da Doflamingo me l'aspetto Oh Hey guys come state Wow Ok Aso per il prossimo Se non è tipo Doflamingo 2 E la sua pedata della morte Ok Si mangialo Probabilmente marcisci dentro Punti bianchi mi è andato Ok Che succede Gabri? Hai paura di quella cosa Vero? È così? Sì Capisco come ti senti Io sono una persona normale Io sono una persona normale a differenza degli altri Azop A dire il vero Una volta ho anche pensato di non poter rimanere con loro E a causa di un certo incidente Ho abbandonato la ciurma Hai abbandonato la ciurma? Davvero? Sì Ma qualcosa mi ha impedito di andarmene per sempre Una mia amica ha rischiato la vita per il resto della ciurma Tuttavia ero ancora inutile Ero di intralcio agli altri Allora questo buffone ha detto Farò quello che non puoi tu E tu farei quello che non passo io Mi stai chiamando buffone? E sono riuscito a diventare un po' più forte per salvare la mia amica Gabri non preoccuparti Tu hai noi Se ti trovi in pericolo ti aiuteremo Pensa a concentr... Se ti trovi in pericolo Ti aiuteremo Pensa a concentrarti su quello che puoi fare La forza non serve a pestare la gente Serve a proteggere quelli che contano per te Devo concentrarmi su quello che posso fare Per proteggere quelli che contano per me Ho i miei amici dalla mia parte E questo significa che non perderò Non posso perdere Sì Il verbo proteggere viene abbastanza abusato negli anime Un po' troppo forse Anche per i miei gusti Proteggere o voglio diventare più forte Sono cose di cui sono un po' stufo Ok cosa mi dai? Tre frammenti di diamante Forse ne ho abbastanza per il giga piccone adesso Bene io vi ringrazio l'attenzione Dopo questa batosta Di chi mi vergogna un po' Beh la risposta era spammare a quanto pare Se l'avessi fatto dall'inizio probabilmente non avrei avuto nessun problema Grazie per l'attenzione E alla prossima dove Beh continueremo l'esplorazione E immagino che affronteremo il secondo E ultimo boss di quest'isola Bye bye Boss ufficiale perlomeno Grazie per l'attenzione Grazie per l'attenzione